Una settimana fa il via libera alla procedura in consiglio d'amministrazione da oggi si entra ufficialmente nella fase operativa, con GESAC, la società che gestisce l'aeroporto di Napoli-Capodichino, che subentra formalmente in tutti i rapporti rispetto al costa da Malfi di Salerno. Un ulteriore tassello che si aggiunge al percorso unitario previsto nel piano aeroportuale voluto dalla regione Campania per l'accordo tra gli scali di Napoli e Salerno. La fusione prevede che ora GESAC si occuperà delle scelte che riguardano anche il costa da Malfi, con l'intento di rilanciarlo dopo anni di attesa e ritardi. Incorporati anche i 28 dipendenti della società, che comprendono i 15 addetti del servizio antincendio, che dunque ora sono formalmente in forza a GESAC. Un passaggio importante, propedeutico agli interventi già programmati e finanziati per l'allungamento della pista del costa da Malfi e l'implementazione dell'aerostazione, con cinque società già interessate che hanno risposto al bando. La prossima settimana, salvo ritardi, è previsto l'insediamento della Commissione per esaminare i progetti e affidare così l'incarico per dare il via ai lavori all'aeroporto di Salerno.